Adesso come ogni sabato chiudiamo i notiziari occupandoci di qualche spigolatura tipicamente triestina, quelle odienne riguardano il cinema e forse qualcuno potrà rimanere persino un pochettino deluso. Il film è del 1952, diretto da Henry Hathaway, ovvero da uno dei più grandi artigiani della Hollywood che fu. Fra gli interpreti Patricia Neer in un ruolo da cattiva Karl Malden e in parti minori Lee Marvin e Charles Bronson. La vicenda si svolge negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale in una città che è un crocevia di spie, non Berlino, non Lisbona, non Mosca, non Londra ma appunto Trieste, presentata in tal modo dalla consueta e fascinosa voce fuori campo. Attorno al film e al protagonista, The Ron Power, gira più di una leggenda metropolitana. C'è ancora chi sarebbe disposto a giurare di averlo visto girare in via Capitolina. Una delle scene più famose del film è un inseguimento lungo le gradinate del teatro romano. In questo caso è evidente prima l'uso della controfigura, quindi l'uso del fondale che in gergo si chiama trasparente. Ma anche le scene girate alla stazione centrale oppure a San Giusto sono state realizzate ricorrendo al trasparente. Quella volta però ci sapevano fare con gli effetti speciali che potevano permettersi allora ed utilizzavano assai la seconda truppa incaricata degli esterni e dei raccordi. Però è bello immaginare che qualcuno abbia costruito una piccola leggenda. Laddove vorremmo conferma di un'altra storia cinematografica che riguarda i nostri luoghi. Molti sostengono che una parte dei vichinghi, mitico e bellissimo film d'avventura con Kirk Douglas e Tony Curtis, sia stata girata lungo il canale di Leme in Istria. Però nell'autobiografia di Kirk, piuttosto dettagliata quando tratta di quel film, non vi è alcun accenno a Leme. Chi avesse delle prove in un senso o nell'altro si faccia pure avanti. E se volete fare bella figura ricordatevi che si pronuncia Tyrone Power.